Siamo con Daniele Cantore, nuovo centrodestra, stanno per delinearsi in maniera quasi ormai decisivi i distacchi in questa tornata elettorale regionale. Una vittoria probante di Chiamparino, qual è un suo giudizio? Ma intanto mi pare una vittoria annunciata che oggi si concretizza e quindi voglio fare a Sergio Camparino gli auguri di buon lavoro a lui e alla sua maggioranza. Mi auguro anche che possa avere una maggioranza consistente e anche solida che gli permetta di governare per i cinque anni. Questo è l'augurio che faccio a lui e che faccio anche ai piemontesi, di avere una giunta che possa governare cinque anni. Consigliere Cantore, ancora consigliere regionale, il giudizio a caldo parziale sul nuovo centrodestra che dovrebbe superare lo sbarramento del 3% e fare il consigliere? A me piace sempre essere molto franco, noi ci aspettavamo in queste elezioni di avere un risultato migliore. E quindi non sono venuto qui a dire abbiamo vinto o comunque a trovare delle giustificazioni, anche se una c'è e che poi se mi permette le dirò. Abbiamo ottenuto il quorum sulle europee, quindi ci sarà un parlamentare espressione della circoscrizione nord-ovest. Siamo vicini ad ottenere il quorum su Torino e provincia, quindi dovrebbe essere sul nostro consigliere regionale che siede in aula, oltre a un consigliere regionale espresso dalla provincia di Cuneo. Ecco, sappiamo come è nato il nuovo centrodestra, allora lei è stato anche consigliere regionale dell'allora gruppo PDL, il giudizio sul testa a testa per la seconda posizione tra il candidato Picchetto del centrodestra per Picchetto e il candidato Bono del Movimento 5 Stelle? Ma guarda, intanto mi lasci dire che io non solo ho fatto consigliere, ma anche il presidente del gruppo del nuovo centrodestra, noi siamo un partito che di fatto è nato sulla carta a novembre 2013 e si è materializzato ad aprile 2014, quindi un mese fa. E quindi nonostante questo, ci aspettavamo di più, ma questo comunque è un risultato di partenza, noi speriamo che questa sia la partenza per costruire veramente un nuovo centrodestra. Sulla sua domanda non voglio eludere, ma penso che, lasciamolo dire agli elettori piemontesi, certamente non si è fatto nulla perché si potesse ripresentare la maggioranza uscente, in questo modo non solo abbiamo avvantaggiato una corsa già abbastanza facile di Sergio Chiamparino, ma di fatto, come l'ho detto prima, una vittoria annunciata si è poi concretizzata. Quindi non so dire se tra picchetto e buono chi ce la farà, sicuramente chi avrà convinto maggiormente gli elettori piemontesi, ma penso che questo forse importi relativamente ai piemontesi. L'importante è che qui ci sia una maggioranza solida e un'opposizione che sappia fare il suo mestiere. Ancora due domande, ricordiamo che siamo con il consigliere regionale cantore del nuovo centrodestra, secondo lei è scongiurato il rischio di ingovernabilità in aula per quanto riguarda i numeri in consiglio regionale? Ma secondo i dati, adesso come dire, ragioniamo su un, mi pare, gli ultimi aggiornamenti che ho visto, siamo a un terzo dei seggi scrutinati o qualcosa di più, insomma, quindi è difficile fare previsioni sia sul risultato finale che sugli eventuali eletti di ogni partito. Io penso, ma lo dico sinceramente, mi auguro anche che esca fuori una maggioranza autosufficiente. E' veramente un'ultima domanda, i riflessi, si è votato anche per le elezioni europee, cosa hanno insegnato questi risultati? L'Italia ha in controtendenza rispetto ad altri paesi dell'Unione molto più euroscettici? Ma è indubbio, questo risultato dell'Europea ha confermato l'azione di governo, dove vorrei ricordare non solo c'è il PD con Matteo Renzi, ma c'è anche il nuovo centrodestra con Angelino Alfano, ci confermano che è importante proseguire. Per quanto ci riguarda, noi dobbiamo darci, tra virgolette, una regolata e incominciare, non abbiamo potuto farlo, ad organizzarci sul territorio per rappresentare proprio quel nuovo gruppo dei moderati, che era l'intenzione quando abbiamo costituito un nuovo centrodestra. Bene, allora ringraziamo il consigliere regionale Daniele Cantore, nuovo centrodestra, di nuovo linea alla regia.